Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come disattivare l'antivirus più il Core Isolation che si basa sulla protezione degli attacchi malware sul tuo dispositivo quindi in questo caso vi spiego come disattivare l'antivirus e come disattivare il Core Isolation su Windows Defender quindi in questo caso andiamo un attimo su Firewall, Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata andiamo un attimo su azione, proprietà e da qui potete disattivare il vostro antivirus quindi attivo, disattivato, profilo privato mettete disattivato, profilo privato e basta e poi fate applica, io adesso lo riattivo perché mi serve una volta disattivato questo Windows Defender Firewall con la sicurezza avanzata andiamo un attimo su Windows Defender, sicurezza di Windows vai su sicurezza dispositivi, isolamento Core, dettagli isolamento Core e da qui potete disattivare l'isolamento Core fate da attivato a disattivato e lo togliete vedete qua e riavviate il vostro sistema operativo in questo caso una volta riavviato il Windows la sicurezza dei dispositivi si è riattivato quindi meglio non farlo quindi se questo video vi è stato utilissimo su come disattivare l'antivirus su Windows Defender Firewall e Windows Defender sulla sicurezza dei dispositivi ti consiglio di iscriverti al canale di lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao